Benvenuto su Gossip in the News. Prima di aggiornarti sulle ultime notizie ti invitiamo a iscriverti al canale. Per noi il tuo contributo è importante. Nostradamus, nato all'inizio del XVI secolo, è stato un astrologo francese che lavorava come medico. È noto per le sue presunte capacità di predire il futuro e gli vengono attribuite previsioni di numerosi eventi storici importanti. Tra questi, si dice che abbia previsto l'ascesa di Adolf Hitler, l'inizio della pandemia di coronavirus e l'assassinio del presidente americano John F. Kennedy. Per quanto riguarda il 2024, il mistico prevede possibili drammi per la famiglia reale, lo scoppio di una guerra e un grave tsunami. Ora, se siete incuriositi, cliccate qui per scoprire alcune terrificanti previsioni per il 2024. Dopo la tragica morte della moglie e dei figli a causa della peste in Francia, Nostradamus iniziò a predire il futuro. Viaggiando per l'Europa, studiò il misticismo ebraico e le tecniche astrologiche. Tornato in Provenza, nel 1555 pubblicò le profezie, la sua opera più importante, composta da 942 predizioni. Alcuni interpreti ritengono che le sue prime profezie indicano che il mondo dovrà affrontare gli effetti catastrofici del riscaldamento globale. E il 2024 non farà eccezione. Molti analisti indicano un testo che parla di mari, fiumi e laghi in ebollizione e di una grande siccità. Vedendo in queste parole una previsione del cambiamento climatico che renderà alcune parti del mondo invivibili per umani e animali. Nostradamus ha anche predetto grandi inondazioni e una conseguente carestia. Le sue previsioni recitano, la terra secca diventerà più arida e ci saranno grandi inondazioni. Inoltre, ha scritto di una grandissima carestia a causa estifera, suggerendo che uno tsunami potrebbe colpire i terreni agricoli. Negli ultimi anni, il mondo è stato segnato da conflitti, come l'invasione russa dell'Ucraina nel febbraio 2022 e la guerra tra Israele e Hamas nell'autunno del 2023. Gli analisti di Nostradamus prevedono purtroppo ulteriori conflitti per il 2024, inclusi combattimenti navali e grandi inondazioni. Le sue predizioni parlano di combattimenti e battaglie navali e di un avversario rosso che diventerà pallido di paura, mettendo in soggezione il grande oceano, che potrebbe riferirsi alla Cina e alle tensioni con Taiwan. Papa Francesco, che compirà 88 anni il 17 dicembre 2024, ha avuto recenti problemi di salute. Secondo Nostradamus, potrebbe presto essere sostituito, per la morte di un pontefice molto vecchio, sarà eletto un romano di buona età, di lui si dirà che indebolisce la sua sede, ma a lungo sederà e immordente attività. Una delle principali predizioni di Nostradamus riguarda un re delle isole che viene scacciato con la forza. Alcuni esperti pensano che questa figura possa essere re Carlo, poiché l'affermazione recita, re delle isole cacciato con la forza, sostituito da uno che non avrà il marchio di un re. Nonostante il principe William sia il prossimo nella linea di successione, alcuni analisti suggeriscono che l'affermazione nessun segno di un re possa riferirsi al principe Harry. Qual è la previsione che ti ha colpito di più? Faccelo sapere nei commenti. Ciao al prossimo incontro.